rieccoci qua ragazzi belli siete buonasera buonasera buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico nec nella casa del pane balun allora ragazzi in attesa della conclusione di questa quarta giornata visto che ci sono altre due partite una che in questo momento si sta giocando più ci sarà quella di stasera in attesa appunto della conclusione della quarta giornata per per capire chi sarà ufficialmente la capolista perché insomma a parte il napoli che in questo momento prima in classifica possono esserci il verona piuttosto che l'udinese addirittura più avanti di tutti perciò attendendo la fine di tutto ciò insomma poi quando la cosa a me preoccupa molto per questo sta sta cosa la sto sottolineando mi preoccupa molto perché Antonio Conte se rimani primo da solo sono cazzi perché quello poi non la molla più quella posizione io lo io lo conosco non personalmente ma lo so ma quello se va primo non lo schiodi più di lì se la tiene quella posizione con tutte le forze ragazzi vedete che cosa è riuscito a fare dopo la prima giornata da shock del napoli perdendo in casa no perdendo contro il verona insomma avete visto cosa è riuscito a fare se rimane primo da io sono preoccupato devo essere sincero amici partenope non me ne vogliate insomma all'inizio del campionato vorrei anche io magari vedere se riesco a rientrare nella nella bagarra e però se Conte rimane prima è un problema perciò io lo conosco lui è uno di quelli poi quando parla dice noi dobbiamo pensare a noi arriviamo da un decimo posto dobbiamo rientrare nei primi quattro si sente già lo scudetto in tasca quando parla così è perché 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 lo vuole e sta la cosa assurda è che sta convincendo anche i giocatori e lui è capace di ogni cosa però ha detto questo c'è una c'è un un giocatore che veramente oggi ho letto una notizia un'indiscrezione un giocatore del napoli veramente e mi colpisce questa cosa qua e adesso ne voglio parlare insieme a voi prima di cominciare come al solito però vi invito ad iscrivervi al canale gratuito non costa nulla iscrizione e attivazione della campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto mettete un bel like al video ragazzi mi raccomando amici like like è importante gratuito non costa nulla e soprattutto fatemi sapere la vostra nei commenti dai ragazzi passiamoci questi dieci minuti insieme ditemi la vostra sapete quanto ci tengo li leggo tutti a volte rispondo a volte no insomma siete veramente in tanti e vi ringrazio di questo insomma mi è difficile riuscire a rispondere a tutti quanti perciò però li leggo tutti i messaggi quello sicuramente detto ciò arriviamo al dunque prima però voglio dire una cosa perché ho letto un'altra cosa e per carità no ho sentito che la nazionale del venezuela vorrebbe convocare daniel maldini nella loro nazione siccome la mamma di daniel maldini la moglie la moglie la ma penso sia la moglie non so se la moglie o la compagna vabbè comunque la moglie di paolo maldini è venezuelana sapete tutti insomma storia sono insieme da tanti anni e maldini pur essendo nato in italia e quant'altro ha la possibilità di poter giocare avendo la mamma venezuelana per carità ragazzi no ma io con tutto il rispetto del venezuela e di tutti i venezuelani e anche della mamma di maldini voglio bene a tutti non fatemi vedere il nome maldini accostato alla nazionale venezuelana nella nostra nazionale negli ultimi anni ci ha giocato chiunque chiunque cioè io penso che un posto per maldini ci può essere anche perché adesso al netto degli scherzi no perché è una battuta però sentire accostato il nome di maldini alla nazionale venezuelana vabbè ma a parte gli scherzi ieri guardando la partita del del mondo monza inter ma è cresciuto ragazzo è scomma aveva mi sembrava un pochettino acerbo nel milan sinceramente detto mamma ma invece l'ho visto anche a livello fisico cresciuto tanto e ragazzi è cresciuto c'ha dei dei colpi è un po un po rilento però mi sembra che sta diventando un buon calciatore insomma io io prego solo una cosa luciano farmi un favore convocalo che una volta che fa anche solo una presenza poi se non sbaglio un po più andate convocalo evitaci questa roba qua almeno poi magari non andrà bene la nazionale italiana vabbè è una battuta ragazzi detto ciò allora arriviamo al dunque insomma la notizia che mi ha fatto un pochettino sgranare gli occhi è quella di david neres ragazzi ancora non si è visto si è visto pochissimo e qui per quel poco che si è visto ha già messo un record qua in italia cioè lui è riuscito a fare nelle prime tre apparizioni nel napoli che manco sono di chissà quanti minuti ha giocato da titolare mai sempre subentrando ma anche giocando pochissimo ha giocato 200 minuti zero questo ha giocato 32 minuti 32 minuti ciò vuol dire tre spezzettoni di partita perché in tre partite 32 minuti e se non sbaglio in una entrata proprio nei tempi di recupero è stato capace di mettere già un record è riuscito a fare nelle prime tre apparizioni tre assist c'è questo qua è baciato dalla della fortuna adesso al netto di tutto perché comunque un buon giocatore c'ha dei colpi incredibili scusate per quel poco che ho visto è veramente bravo perché salta l'uomo perché c'ha dei dei piedi insomma un brasiliano coi piedi buoni solitamente i brasiliani sono un po tutti coi piedi buoni poi insomma però è un brasiliano di quello di quelli raffinati e cavolo ragazzi c'è questo si è presentato bene non c'è il napoli è primo in classifica al netto cioè insomma non è riuscito ancora non sono entrati coi giri tutti i nuovi acquisti 1 nrs perché ha giocato poche partite poi ci sono mattomini gilmore cioè voglio dire ancora non ci sono ancora tutti a pieno gire loro sono già primi in classifica al netto di lukaku che ragazzi sapete cosa avete visto cosa vuol dire avere lukaku e ci ha ribaltato il napoli questo senza preparazione appena sceso dall'aereo è andato a giocare ha ribaltato la prima partita la seconda quella di e perciò sapete cosa vuol dire avere lukaku avere lukaku in una squadra vuol dire vince vuol dire far gol vuol dire vuol dire veramente ti ribalta all'attacco nonostante tutto ha un neres che veramente è interessante questo ragazzo qua veramente interessante dei colpi pazzeschi e lo ha già dimostrato e poi anche baciato dalla fortuna perché insomma se tu entri e fai subito nelle prime tre apparizioni tre assist c'è già verrà ricordato come da quando esiste il come si dice da quando esiste il la statistica dell'assist man mi pare dal 2003 2004 anni hanno tirato fuori questa statistica è il primo ad aver fatto tre assist nelle prime tre apparizioni perciò è già record e già e già e già sugli almanacchi al netto di tutto questo è un grande giocatore ragazzi è molto bravo e molto bravo coi piedi e c'è un piede proprio raffinato ma poi va via anche l'uomo gioca a destra gioca a sinistra può fare il trequartista insomma può dare tante altre alternative ad antonio conte no perché insomma tu adesso c'hai lukaku ai quara scheglia che è un grande spolvero ai politano che sta giocando bene però insomma è vero che è solo una partita alla settimana però riuscire ad alternare questo può fare tutti e due ruoli può sostituire politano può sostituire quara scheglia può giocare da trequartista magari se vuoi cambiare modulo giocare con un trequartista dietro a due punti perché magari in certe circostanze insomma può dare altre alternative ed è uno veramente di qualità e tanta roba e tanta roba questo qua veramente ragazzi a chi non piace questa parola è veramente tanta roba mi hanno sgridato una volta uno ma sgridato mai detto sei stucchevole dici sempre tanta roba se uno è tanta roba e tanta roba no no ragazzi veramente mia mia mi ha scippato l'occhio sta sta notizia che stavo leggendo insomma erano nei miei pensieri guardando tra una cosa e un'altra mi stavo un po addormentando poi mi ha risvegliato stavo guardando la scusate la conferenza stampa del milan e insomma quando parla fonseca lo capisco poco e quel poco che capisco e anche poi dopo mi ha risvegliato un pochettino morata però tra una cosa un'altra leggevo le notizie e mi è balzata all'occhio questo detto ma parliamone con gli amici partenopeva rendiamoli un po partecipi lo sapevate voi questa entrata avuto tre assist pronti via pum 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 ma che lo sapevate lo sapevate ma che ha fatto il record fatemelo sapere nei commenti dai ragazzi siete carichi e io c'ho un po di strizzarella per domani e milan liverpool insomma una partita abbastanza delicata vedremo vedremo dai vedremo vedremo come andrà a finire ci vediamo più tardi per commentare il resto delle partite poi domani mattina ci sarà da fare la classifica insieme champions league insomma avremo modo di vederci ancora un abbraccio di cuore a tutti quanti un bel like al video vale che vado a controllare solo mettete like lo controllo una 111 io non riesco a capire perché non ho like per tutte le visualizzazioni che mettete la tutti lo dovete mettete la un abbraccio e come dico sempre io bye bye